Carissimo, stupatissimo, è fortissimo, è fatta a tutti, amici. Quando è lutto dell'unico, spero che la mia gente si venga a trovare bene, completamente per la tua famiglia e alle persone di grazia di te. Detto questo, rispondo, vuole dichiarare la tua grazia lezione. Prima di tutto, chi può permettersi di criticarti a te o al mio figlio? Io ciò quando ho. nessuno. Voi siete le persone storicamente più vicine alla mia famiglia, voi avete dato tanto a me, tu in particolare. Hai penso, hai, penso a, hai perso un fratello e mi ha visto, hai perso un fratello e mio figlio oggi, è stato sempre tuo devoto e fedele alla mia persona. Quindi niente e nessuno può criticarvi all'incorso del nostro cosiddetto. Voi siete e fate parte integramente della mia famiglia. Se c'è qualche individuo che crea confusione, prima di tutto a quale titolo? Chi è? E che cosa rappresenta? Detto questo, informo che io ho dato una carica al mio figlio oggi. E come ho detto pure a lui, tu in qualità di uno che fa parte assolutamente di lui, devi essere a fianco a lui, unito su tutti i punti di vista. Che si ritiene vicino alla mia famiglia e deve rispettare le mie decisioni. Tutti devono stare vicino a voi. Chi non accetta questo non fa parte della mia famiglia. Poi ci tengo pure a dirvi che chi fa uso e consumo del mio nome, per i propri interessi, avrà ciò che merita. Con questo a me importa solo che si fanno cose vuole, con serenità e lealtà.